Bene, bene, tu devi essere qui da poco. Sono Andrei di Astora. Se ti serve un fabbro, parla pure con me. Molte armi e armature sono davvero possenti e robuste, ma ogni pezzo di metallo ha il suo punto di rottura. Se noti che la loro durabilità si sta esaurendo, è l'ora di ripararle. Puoi chiederlo a un fabbro come me, oppure farlo per conto tuo con una mola. È questo il bello delle armi. Non ti tradiscono mai. Per cui porta loro un po' di rispetto, eh? Ci sono due strade per forgiare armi. C'è il rinforzo e c'è l'ascensione. Il rinforzo è semplice. Rafforza l'arma e nient'altro. Un compito semplice per qualsiasi fabbro. Diavolo, persino tu potresti farlo con una cassa d'attrezzi. Ma l'ascensione è un'arte più fine, che altera le proprietà delle armi. L'ascensione è il territorio di noi fabbri. Una cassa d'attrezzi non fa proprio al caso. Comincia con il rinforzo. Quando perderà attrattiva, potrai considerare l'ascensione. Come avrai notato, questa terra è stracolma di pazzi e scellerati. Non riuscirai a sopravvivere alla notte senza impiegare i miei servigi. Puoi forgiare le armature allo stesso modo delle armi. Forgiare armature è anche più semplice che forgiare armi. Se forgiare prima le armature o le armi, beh, questo sta a te deciderlo. Ma nessuno vuole vederti diventare un essere vuoto. Perciò qualunque cosa tu faccia sarà meglio che la faccia bene. Oh, dove te ne scappi? Che ti aveva preso, eh? Mi pareva che stessi per diventare un essere vuoto. Allora ci si vede. Fa attenzione là fuori. Beh, ci si rivede. Mi pare che te la stia cavando bene. Devo forgiarti qualcosa. Questa è la vecchia chiesa. È stata abbandonata in favore della chiesa attraverso cui si giunge qui. Da qui partono sentieri che conducono a due zone proibite. La fortezza di Sen e il giardino radice oscura. Quei posti attraggono lunatici di ogni sorta. Nessuno colto come te. Va bene essere non morti, ma vediamo di mantenere la testa sulle spalle, eh? Ahahahahahah! La fortezza di Sen è un vecchio terreno di prova costruito dagli antichi dèi. È l'unico percorso che conduce alla grande Anor Londo. Ovviamente parecchi sciocchi non riescono nemmeno a trovare il modo di entrare in quella trappola fortificata. Eppure non smettono di provarci. Prendi per esempio quel maldestro Sir Cipolla. Ahahahahahah! Non so un granché del giardino radice oscura. Anche se ho sentito delle voci riguardo a un fabbro divino che vi risiede. La gente che ha problemi nelle catacombe lo cerca per le sue armi divine. Oh, giusto! Un'altra cosa riguardo al giardino radice oscura. Si dice che ospiti la tomba di Sir Artorias, il camminatore degli abissi. Solo che di tutti quelli che si sono avventurati nella foresta non è tornato nessuno. Non farti ammazzare. Nessuno di noi vuole vederti diventare un essere vuoto. Ah, guarda un po', ma che bel tizzone che hai lì. Potrei forgiare armi belle possenti con uno di quelli. Perché non me lo presti? Magnifico! Non ti deluderò. Sono impaziente di cominciare. Capisco. Peccato. Che mi venga un... Che tizzone favoloso che hai lì. Potrebbe essere il migliore che ho visto in tutti i miei anni nel settore. Che ne dici di lasciare quel tizzone con me? Sono solo un vecchio fabbro. Darei via il braccio sinistro per una gemma simile. Bene, grazie di cuore. Adesso lascia il resto a me. Andre di Astora sa bene come lavorare. Vedrai. Capisco. Peccato. Ma forse potresti... No. No, non c'è problema. Proprio nessun problema. Però è un tizzone raro quello che hai lì. Ne ho già visto uno simile. È il tizzone di un fabbro di vino. Potresti considerare di lasciarmelo. Potrei produrre armi di vine con una fiamma del genere. Bene. Grazie davvero. Hai preso la decisione giusta. Presto vedrai. Capisco. Peccato. Oh, porca, che tizzone stupendo che hai lì. Ho sentito soltanto leggende di esemplari simili. I tizzoni usati per i riti segreti dei fabbri divini. Magari potresti prestarmelo. Ho sognato a lungo di forgiare armi di vine. Ah, ah, splendido, splendido, grazie, grazie. Andre di Astora non delude mai, te lo assicuro. Capisco. Peccato. Non posso aspettarmi che tu dia via ciò che è tuo, in effetti. Mostrami un po' quel tuo tizzone. Beh, non ho mai sentito parlare di un tizzone nero. Che ne dici di lasciarmi quel tizzone? Lo trovo stranamente affascinante. Sì, bene, grazie. Questo tizzone è davvero qualcosa di speciale. Sono già sotto il suo incantesimo. Percepisco proprio un grande potenziale. Proprio no? Beh, mi sembra giusto. È un peccato, ma sopravvivrò. Mmm, ma che tizzone bizzarro che hai lì. Ah, so cosa stai pensando, ma non me la cavo con quelli. Non sarà facile, ma temo che dovrai cercare qualcun altro. Oh! Oh! Oh, che male! Beh, hai un bel fegato. Prendertela con me in questo modo. Ti ridurrò a brandelli, maledetto essere vuoto. Oh! Dannazione! Ah, maledetta canaglia! Dannazione! Dannazione! Dannazione!